Flotti aziendali e noleggio a lungo termine, come è andato il 2010? Siete soddisfatti dei risultati? Come Renault riteniamo il 2010 un anno particolarmente soddisfacente per quanto riguarda i risultati. Siamo riusciti, grazie ad una gamma prodotto veramente molto vicina al target cliente e aziende, e mi riferisco alla famiglia Megane, ad ottenere dei risultati che sono fortemente in crescita rispetto al 2009. Parliamo di una penetrazione di vicino al 7% di quota, che è un risultato molto molto importante per quanto riguarda noi. Abbiamo tre modelli che sono fra le top 20 sul mercato del noleggio delle aziende e questo vuol dire che il mercato, i direttori acquisti delle varie aziende hanno scelto il nostro prodotto. Famiglia Megane in generale, veicoli commerciali, ma anche Clio ha giocato alle sue carte. Quali sono le previsioni per il prossimo anno? È veramente molto difficile fare previsioni in quest'anno perché si parla di alcune agevolazioni sul mercato delle aziende, si parla di una fiscalità che potrebbe dare dei vantaggi. Oggi noi riteniamo di voler nel 2011 lavorare sul mantenimento dei volumi che abbiamo realizzato, lavorare una logica di conquista verso alcuni grandi clienti, approfittando veramente di un anno pieno di un prodotto Megane, Scenic e Sportour in particolare, veramente molto soddisfacente. Quali novità in termini di prodotti e servizi vi vedranno impegnati il prossimo anno? Per quanto riguarda le flotte aziendali stiamo lavorando su un pacchetto di servizi che possa offrire al cliente su tutta la nostra gamma di prodotti un pack sicurezza, 4 anni di garanzia, 4 anni di finanziamento o leasing a seconda del bisogno del cliente e soprattutto un livello, un pacchetto assicurativo molto molto appetibile con addirittura il rilevatore satellitare su tutti i veicoli commerciali che noi andiamo a vendere nel 2011. Sul noleggio continuiamo con la nostra captive, Renault Business Lease, ad offrire attraverso la nostra rete un prodotto di locazione lungo termine ad una clientela azienda che si avvicina al mondo Renault. Cosa state facendo per la mobilità sostenibile? Quali minacce e quali opportunità ci saranno nel segmento flotte aziendali e nel noleggio lungo termine? Renault ha dichiarato da tempo la sua strategia. Sulla ecosostenibilità noi puntiamo fortemente sull'elettrico. Vediamo qui un esemplare di un modello che uscirà nel 2012, inizio 2012 e che di fatto spiega un po' tutta la strategia della filosofia Renault. Zero emissioni vuol dire avere una gamma, zero emissioni, sostenibile per qualsiasi tipo di clientela. Siamo l'unico costruttore che potrà avere quattro prodotti, mi riferisco al Kangoo, veicolo commerciale, piuttosto che alla Fluence che vedete qui, ma anche due modelli particolarmente innovativi come Twizy, due posti, 45 e 75 km orari e poi nel 2012 la Zoe che è il vero prodotto di punta della nostra gamma. Su un target aziende Fluence giocherà un ruolo molto importante.